Maxi sequestro di mascherine in A1 sono infatti quelli alle mie spalle, i 10.000 pezzi senza certificazione bloccati dalla postrada di Arezzo. Sono stati infatti gli agenti della sottosezione di Battifolle a fermare nei pressi del casello di Arezzo un furgone con targa ungherese che da Napoli si stava dirigendo verso nord. All'interno i poliziotti hanno così trovato le 10.000 mascherine di tipo FFP2. A bordo del mezzo due uomini, un trentenne campano ed un cinquantenne pugliese che alle domande degli agenti hanno dato spiegazioni vaghe sostenendo che si trattava di merce commissionata nella città partenopea ma poiché il compratore non si era presentato veniva riportata in Ungheria. I poliziotti alla luce della grave emergenza sanitaria attualmente in corso hanno deciso di approfondire i controlli. È stato così accertato che si trattava di mascherine provviste di una certificazione falsa e quindi non solo di provenienza illecita ma anche di dubbia efficacia. Sono stati così sequestrati furgone e protezioni per il viso, per i due invece è scattata la denuncia per frode in commercio. Sempre la polizia stradale ha poi fermato anche un cinquantenne romano alla guida di un autocarro. I poliziotti all'interno del mezzo hanno trovato nascoste in un pannello di plastica 17 mazzette di denaro contante per un valore di quasi 114.000 euro. Il romano ha affermato di non sapere nulla di questa ingente somma e che probabilmente apparteneva al precedente noleggiatore dell'autocarro. Il risultato è stato che il cinquantenne è stato denunciato in stato di libertà per riciclaggio e il denaro e il veicolo sono stati sequestrati.